dall'arena di monza vero balle in milano trasporti pesanti casal maggiore orro in battuta la ricezione di frenti subito cercata poi da andare in pallonetto morato da stisiac altra velocità al frapper frenti sulla parallela c'è la difesa di orro e poi l'arsson va a prendersi il muro di lo house 3 a 1 battuta qualche difficoltà per dargli schiva orro in qualche maniera per larsson il muro poi la difesa di frenti e poi va segno ricezione di larsson orro vada da vischiba il murone di lo house appena entrata la ricezione di frenti carlini per graus che prova a spingere non va a rigioca casal maggiore va tutto braccio piva questa volta c'è la difesa di milano larsson deve andare in pallonetto la ricostruzione casal maggiore impreciso il bagger di frenti e allora c'è il muro di folia attenzione il tuffo di debortoli a immolarsi malualla manda di là frivol per milano con folia la difesa di malualla poi il bagger dall'altra parte del mondo per piva e va a spazzolare sulle mani del muro dell'avvero volley 22 13 una volta tutto era partito anche da una bella abbattuta e poi difesa di da vischiba piva tutto braccio il muro poi la difesa stessa da vischiba orro carretti non proprio a misura brava larsson copertura negretti riesce a mandare di là frivol per casal maggiore carlini para dietro per malualla rendi retti in palleggio per larsson super diagonale per jordan larsson ricezione di negretti sulla testa di orro folie vola altissimo raffa folie 22 a 9 ricezione intanto di da vischiba orro corregge per retti sul profondo chiude la il set viva in battuta ricezione di larsson orro per stisac vola altissimo in pipe ricezione di debortoli carlini per lo house segno finisce anche il terzo set di tre metri carlini va dai fronti il muro tocca chiude la difesa begic e poi larsson difesa anche questa malualla con palla staccata cesti jack stevanovic per larsson morata dallo house 5 in totale di jack a tutto braccio pura energia questo monster block debortoli palla dietro poi per malualla la parabola velenosa e jordan larsson la ricezione di debortoli carlini dietro per malualla il muro poi la difesa di larsson orro spinge per fuori arriva il murone di adu malualla la vittoria da tre punti quattro match point adu malualla ricezione di larsson orro dietro per thompson annullato il primo la ricezione di piva carlini per lo house in buro la difesa di larsson poi thompson la gran difesa in parallela di debortoli carlini per piva sul profondo c'è larsson orro per davis chi va parità quota 24 la terra perinelli entrata frenti va sbagliare sarà tie break incredibile finale di quarto set la ricezione di davis chi va poi larsson per davis chi va il murone tomson dalla seconda linea salva debortoli dopo il muro carlini per malualla il pallonetto assegno per manualla 14 10 oro in battuta va sbagliare finisce qua ciao